Un'immagine profilo seducente, una ragazzina di 17 anni, bella e disponibile, ma le mani sulla tastiera non erano certo quelle di un adolescente. Dietro ai messaggi spinti e alleciata luci rosse c'era lui, un pedofilo di 40 anni. L'orco nella sua squallida rete aveva fatto finire diversi minorenni, le gallerie degli orrori collezionate su computer e telefonino parlavano da sole. A scoprirle, gli agenti della polizia postale di Verona, che spinti dalla segnalazione di un genitore scaligero, erano arrivati ad un uomo residente in provincia di Como, immediatamente arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. L'analisi dei tantissimi agghiaccianti file aveva portato ad un'altra inquietante scoperta. Un sedicenne lombardo, vittima degli inganni in rete del maniaco, era arrivato a fornire alla presunta fidanzatina video che lo ritraevano mentre abusava del fratellino più piccolo. Per quattro mesi il pedofilo ha incitato il ragazzino a commettere l'incesto e a condividerne i momenti su WhatsApp, giochi a luci rosse dai contorni atroci che si sono trasformati per il giovane in accuse pesantissime. L'adolescente, che nel frattempo si era trasferito in Gran Bretagna con la famiglia, è finito in manette lo scorso maggio. È stata la polizia inglese, su disposizione di un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura dei minori di Brescia a compiere l'arresto. In questi giorni è stato estradato in Italia e dovrà rispondere di reati terribili aggravati dall'abuso di relazioni domestiche. Le indagini vanno avanti per accertare se altri utenti abbiano ricevuto i file pedopornografici autoprodotti dal ragazzino come regalo per la presunta fidanzatina.